Noi siamo noi! Quartier generale dei Bow Boys, il focus di oggi riguarda migliaia di cani e gatti buttati fuori di casa allo scoccare dell'estate. Approfondiamo! Ok Bow Boys, ai vostri posti! È ora di difendere gli animali maltrattati. Oggi ci occuperemo di cani e gatti abbandonati. La loro casa è grazie all'uomo e la strada. Quando la bella stagione si avvicina, cani e gatti di casa cominciano a tremare. I dati parlano chiaro. Il 30% di animali domestici viene abbandonato nei mesi estivi. Abbandonare questi animali è come condannarli a morte certa. E sì, perché la vita del randaggio è una sfida alla sopravvivenza, piena di pericoli. E sapete quali sono i luoghi più gettonati per disfarsi di fido e vicio? Nella speciale classifica dell'orrore spiccano le autostrade. Certo, forse pensano che impareranno a fare l'autostop. Al secondo posto, per i padroni con sensi di colpa, ci sono i canini. Civili? Bow Boys? Non proprio. La maggior parte delle volte si limitano a legarli fuori dal cancello. O peggio, li gettano direttamente dentro con un bel salto in alto. Al terzo posto, ecco una soluzione davvero di cuore. L'abbandono nei centri cittadini. Migliaia di cagni e di gatti vengono così condannati al randagismo. Molte persone sono convinte che un gatto domestico possa adattarsi facilmente alla vita di strada. Niente di più sbagliato, Bow Boys. I gatti sono animali estremamente territoriali. Ritrovarsi in un ambiente sconosciuto è uno shock. Soli e senza un riparo, questi mici sono condannati alla fame. E i cani? Il loro destino forse è anche peggiore. Malattie, bocconi avvelenati e maltrattamenti sono molto comuni. Per non parlare delle auto che sfrecciano a tutta velocità. Ogni estate i volontari si fanno in quattro per recuperare i disperati che nessuno vuole più. Curare le loro ferite è solo il primo passo. Riacquistare la loro fiducia è la vera grande scommessa. Perché questi animali hanno il cuore spezzato. Qualcuno ha tradito il loro amore. In Italia, chi abbandona un animale domestico commette un reato. Rischia l'arresto fino a un anno. È una multa di 10.000 euro, ma la legge spesso non basta a scongiurare gli abbandoni. Sergente Berri è il momento di approfondire. Grazie, Sergente Chiavotto. Da molti anni le associazioni che si occupano della difesa degli animali vanno in onda con importanti campagne anti-abbandono. Associazioni grandi e piccole. Da PETA a OIPA. Da ENPA a la Lega ISIM. Tutte combattine e accunate dall'unico desiderio di sensibilizzare la gente sul triste fenomeno dell'abbandono. Noi dei Bow Boys, in vista dell'estate, non potevamo mancare questi importanti appuntamenti. Ciao, sono il Sergente Berri e i Bow Boys. Fabiana, tu hai creato Allegra ISIM. Che cos'è esattamente? È un progetto di comunicazione sociale che ha come finalità quella di cercare di sensibilizzare sul tema dell'abbandono. C'è qualcuno che abbandona il proprio cane, ma io e i miei genitori non abbandoneremo mai Toby. Si rivolge ai bambini perché saranno gli uomini di domani e quindi chiede aiuto ai bambini per creare campagne di comunicazione sociale che siano in grado di toccare il cuore degli adulti. Hanno partecipato delle scuole elementari da tutta Italia. Noi abbiamo selezionato il primo anno uno spot dove veniva paragonato lo sguardo di un cane a quello di un bambino. Io non le abbandono, e tu? E invece al secondo anno ci sono arrivati una serie di disegni dove si faceva vedere la differenza della serenità, della felicità della vacanza col cane rispetto a quella senza cane. Il regalo più bello di mamma e papà è stato Toby. Siamo diventati subito amici. Anche quest'anno ci divertiremo tutti insieme in vacanza. Se anche voi volete fare il vostro spot, potete farlo. Andate sul nostro sito www.bowboys.tv e insieme ad Allegra ISIM si può realizzare un piccolo spot per sensibilizzare. Non si abbandonano i cani. Capito ragazzi? Inviateci foto e video in compagnia dei vostri amici a quattro zampe oppure postate sul sito i vostri disegni a tema accompagnati da un breve slogan. Verranno esposti in una mostra. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito. Bowboys, scatenate la creatività. Una buona idea può salvare tanti animali. Grazie per la visione.